in questo video andremo a fare una semplice prova pratica andremo a misurare il consumo del raspberry 4 dove sta girando openhab 3 utilizzando un sonoff pow aggiornato con firmware tasmota per chi non lo conoscesse il sonoff pow è un sonoff standard diciamo con un relais azionabile da remoto che permette però di misurare la corrente del carico a cui è attaccato poi sempre per fare un test andremo a integrare questo sonoff in openhab 3 andando quindi a memorizzare i dati acquisiti su un database influx creato ad hoc per visualizzare i dati su dashboard con grafana andiamo quindi sull'interfaccia web del sonoff quindi tasmota e vabbè prima cosa cambiamogli il nome giusto così per pulizia e lo chiamiamo rp4 power monitor eccoci qua vedete comunque che sta funzionando perché mi sta rilevando la potenza consumata dal raspberry andiamo a configurare quindi adesso l'mqtt che è quello che ci interessa di più quindi gli mettiamo l'indirizzo ip del nostro nuovo server mqtt lasciamo tutto così come era prima e come topic ce ne creiamo uno nostro test power rp4 salviamo e andiamo a verificare che si connetta ma sembra che ci sia qualche problema ma forse perché ho giù l'istanza docker di moschitto quindi andiamo sul solito portainer containers e infatti è stoppata quindi la avviamo e vediamo se si riprende ok si è ripreso quindi la nostra cosa interessante è questo messaggio che viene mandato sul topic che abbiamo messo noi sensor che dobbiamo poi andare ad integrare su openhab giusto per essere sicuri che la connessione funziona e che i messaggi arrivano su effettivamente sul broker possiamo usare il nostro mqtt explorer come client ci colleghiamo e vediamo che arrivi sul topic che abbiamo scelto il messaggio quindi test power rp4 aspettiamo adesso non mi ricordo ogni quanto manda i messaggi andiamo a controllarlo con teleperiod 300 un po troppo mettiamo teleperiod ogni 10 secondi quindi torniamo sul qtt explorer ok vediamo che è arrivato il sensor vedete abbiamo tutti tutti i dati che ci interessano noi possiamo andare a prendere il power memorizzarlo sul database in modo tale che tramite grafana riusciamo a vedere l'andamento storico andiamo quindi sul nostro openhab 3 come al solito ci logghiamo e per prima cosa andiamo nel nostro model e aggiungiamo il piano semi interrato a questo punto andiamo ad aggiungere la connessione al sonofpaw tramite mqtt quindi dobbiamo aggiungere un nuovo broker che si colleghi come bridge al nostro server e poi creiamo un oggetto in qtt che utilizza il nuovo bridge quindi entriamo nella nostra nuovo oggetto andiamo sui canali e aggiungiamo un channel la state è il topic che abbiamo messo prima nel nostro sonofpaw quindi lo andiamo a copiare copy e poi dobbiamo aggiungere la trasformazione perché abbiamo un oggetto json quindi il campo è qua usiamo la solita json path andiamo a vedere bene com'è il messaggio del sensor json quindi noi dobbiamo cercare energy power qui il punto energy punto power creiamo e a questo punto aggiungiamo un punto al modello ecco che abbiamo già il nostro valore 4 che corrisponde andiamo a vederlo meglio nel home page adesso è 3 adesso è 3 ok sta funzionando tutto quindi adesso dobbiamo crearci il database influx per poter andare a memorizzare i dati storici e poi farli vedere su una dashboard quindi andiamo su portainer ci connettiamo alla shell di influx giustamente mi devo autenticare su open andiamo nella nostra gestione della persistenza aggiungiamo influx db ok installato adesso lo dobbiamo configurare quindi sul nostro raspberry andiamo nella cartella di openhab etc openhab cartella services e modifichiamo il file influx db andiamo a mettere come user e password quelle di amministrazione e il db si chiama testrp4 salviamo e andiamo a vedere sul nostro influx db se vengono create le tabelle ok quindi influx db è stato attivato come motore di persistenza in automatico sono state create le tabelle relative agli item che producono dati e sicuramente adesso si staranno popolando quindi andiamo a vedere quella che interessa a noi ecco i dati quindi li stiamo acquisendo a questo punto con grafana possiamo andare a vederli sul grafico quindi usciamo pure di qua perché tanto tutto funziona andiamo su a vedere intanto se è su il container di grafana no non è su quindi lo lanciamo ok andiamo quindi sul nostro grafana ok il test ha funzionato quindi possiamo andare a creare la nostra dashboard con un grafico ci diciamo di leggere dal nuovo data source ecco che sono già apparsi togliamo pure il raccorpamento adesso abbiamo pochi dati però li vediamo in pochi clic abbiamo tirato su un sistema di monitoraggio di un consumo energetico ok abbiamo fatto passare un giorno in modo tale che il nostro influx db acquisisse i dati del consumo e adesso andiamo a vedere su grafana come vengono visualizzati nella nostra dashboard andiamo a cercare la nostra dashboard quella che abbiamo creato ieri che avevo salvato ed eccolo non è un granché perché ci sono tantissimi punti stiamo vedendo le ultime 24 ore effettivamente il nostro sonoff inviava un punto di consumo ogni 10 secondi con il teleperiod che avevamo settato quindi vediamo se riusciamo a migliorarlo un pochettino io normalmente cerco di visualizzare tramite una media mobile di 10 punti e dovrebbe venire un pochino meglio ok eccolo qua è già molto più chiaro volendo si può trasformare la linea le linee in bar quindi barrette che hanno un pochino più senso quando si vede un periodo più più corto quindi niente se torniamo a vedere il grafico a linea e torniamo alle 24 ore vediamo che il nostro raspberry ha consumato dai 3 e mezzo ai 6 watt